Giuseppe è di merda! Cazzo! Pezzo di merda! Vabbè! Gaglione! Sono ultimo! No! Ma sono troppo forte! Sono arrivato terzo! No! Animali, animali, benvenuti in questo nuovissimo video in compagnia dei mates. Quest'oggi siamo messi in gioco in un modo un po' particolare. Sapete benissimo come finiscono i video dei mates. 40.000 mi piace e ne faremo un altro. Godetevelo tutto e buona visione! E... Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi sono Anima e bentornati in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo in compagnia di tutti i mates. Ciao ragazzi! Quest'oggi nuovo gioco. Questo non giocavo neanche io. È un gioco vecchio rivisitato. Noi hai già 800 anni. Ma il gioco o il papà? Quello che hai capelli bianchi sempre non erano io. Oh! Quando compri il treno sul trenità ti dicono sconto un tra 60 anni. Cazzo! Comunque benvenuti su Tricky Tower. È Tetris però siamo tutti e quattro nella stessa partita contro... Competitivo. Tetris competitivo. Competitivo quindi ci sono tre varie modalità che faremo. Torneo che arriva prima ai 18 punti. Vince. Quando vedete le linee colorate ci sono dei potenziamenti che potrebbero essere dei bonus o dei malus. Quindi il bonus va a favore tuo e il malus va a favore di tutti gli avversari. Che è questo torneo di soffrittello? Ma se lasce alle due. Modalità casuale. Fai il torneo casuale. Difficoltà? Bimbi minchia. Ma normale. Normale. Sopravvivenza normale. Sono partito. Raga, occhio perché... No, qua non ci sono... Ah no, questa qua è la modalità che abbiamo tre vite, sì. Chi perde una vita quando butti i pezzi di sotto. Esatto. Raga, ricordatevi le posizioni. Siamo così nelle posizioni. Con calma. Già sta crollando, raga. Qua sta più attento. È meno solido del previsto. 500 anni. Dobbiamo costruire solide... Che quella fianca a me? Banca mediana. Stefano sta tryhardando troppo. Raga, io... No, raga, ho sbagliato a mettere un pezzo. Bravo. Dio... Vabbè, l'ho aggiustato perdendo una vita. Ci sta. Ce la faccio, ce la faccio. Raga, sto costruendo una base che... Manco l'Empire State Building. Raga, mi sta crollando tutto. Papà, per... Che sta succedendo? Perché c'è la nebbia? È un malus. C'è la nebbia, cos'è? Oh, i mortaggi vostri. Ma l'hai dato tu? Sei l'unico senza. Non be' nostra. Io sono il primo, Sasha. Perché... Cosa mi avevo eliminato? Perché mi avevo eliminato? Perché ho tre vite, è ritardato. No! Sta crollando tutto per me. Ma che gatta di modalità avete scelto? Cos'è quella tua? Oh, sono veloci. Sasha, perché ho perso? Calma, perché ho tre vite. Ho vinto, ho vinto. Non era pezzi. Ma che buon gioco nuovo. Che modalità di merda. Ma che è Suri al Power 1? Sono io due punti. Io sono tre. No, tu zero. Sono tutti Suri, lo capite? Buongiorno, cazzo. Chi sono io? Lui, allora, lui è arrivato primo, quindi uno, uno, uno. Io sono arrivato secondo, secondo, secondo. Io uno. Terzo e tu zero. Ma qualcuno, zero punti. L'obiettivo qui è arrivare fino a... Io dobbiamo arrivare in cima. C'è il traguardo, c'è il traguardo. Ok, quindi è una gara. Ok, è una gara. Easy, 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 easy. Qua sono più competitivi. Le montricchi, volevi dire. Perché è puttato? Ma secondo me c'ho qualche problema alla vista, ragazzi. No, è la vecchiaia. No, ragazzi, io sono convinto che li metto bene. A fanculo adesso li piazzo tutti in una sola l'altra. Ma non è una tattica vincente, papà. Sì, cazzo, vai vai col malus. No, 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 il palloncino no. Se c'è una tattica del non so mai. Guarda che cazzo ha fatto quel palloncino? Guardate quel blocco. Allora, l'importante è creare una torre. Eh, scusa, buongiorno. E' bravo, più o meno. Mi sta prendendo male al cuore, raga, eh. Calma, l'ho messo bene. Oh, oh, non mi cadere tu. Ma sto pezzo vattene a fanculo, vai di sotto. Mi sono cercato di concentrare, ma è difficilissimo. Che è che mi gira i pezzi, raga? Ma anche a me girano, assolutamente. Raga, Surry è primo e non ha mai giocato a sto gioco. Ma nessuno ha giocato a sto gioco. Sì, insomma, io... Eh? Io ho un po' di sempre giocato. Ma con questa è la roba di ghiaccio. No, raga, no! No! No, 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 no! Oh, c'è quello vino sulla nuvoletta che mi offendo. Tattica ignorante, si butta tutto di sotto. Sali! Oddio! No, no, io sto andando. No! 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 Anche a me! No! Anche a me! Raga, ma io sto mettendo a caso e non riesco a salire. Ma mortacci di sto gioco di merda. Ma come? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardatelo di sotto! Guardatelo di sotto! Guardatelo a casa, stai! Hai fatto la torre schifosa! Tutta dritta! Meccati sti tre puntocci in sacco, c'è! E io sono scemo! Sono pari! Raga, chi è? Andavo quasi prima, avevo vinto! Dovete costruire di più sotto quella stricella, superata e finisce il gioco. C'è, è piccolissima la linea. Ma ci sono le vite qua, mi sa, eh? No, non ci sono le vite. Più punti possibili per arrivare sopra. Raga? Eh, che c'è? Che? Ah, se cade un blocco finisce? No! No! Se superi la linea. No, ho superato! Suri sta tryhardando! No, ho scendi punti, raga! Sta tryhardando tantissimo questa! Uno sta tryhardando! No, a destra, suri, a destra, a destra, a destra, a destra! Li perdi, li perdi! Non è vero? Si, perdi. No, no, ah no, chi ha fatto di più? Io ho tre, cinque, cinque, sette! Io ho cinque, io sono morto e tu, no, hai fatto cinque! Lui ne ha fatto cinque! Sei scagolato! Non è che io ho morto! E noi due abbiamo fatto cinque! Sono morto tutti, vedete, siamo a fari merito io e te. Compedizione normale, quasi bisogna vincere basta. Mi andiamo a trovare, sono tre le modalità, quindi... Arrivare in vetta... Dobbiamo rifare la vetta, esatto. Con calma, fai le cose con calma... Perché sta cadendo? No! Io vi ammazzano. Nooo! No, 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 no! Sei una merda, papà! No, vai, vai di sotto. No, vaffanculo, vai di sotto. No, non me la dà, no, no! Eh no, te lo fa rifare, è troppo facile buttare sotto papà. E va di sotto lo stesso. Capito? E ancora di nuovo me lo sa! Guarda, guarda, guardate, guardate la mia torre, raga, è perfetta. È perfetta. Ho costruito un'altra base! Ancora? Vorrebbe dire. Guarda, un buon... No, raga, non so dove... No! No, 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 andate a cagare tutti i malus! Oh, buono, 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 buono! Aiuto, raga, sta crollando tutto a meno! Perché quello ha due basi? Non so come faccio essere primo! Eh, se non lo sai, vuol dire che non sei bravo sto gioco, dai culo a torre! Sì, ho fatto una base! Aiuto, vinco! Tre, uno, no! No, non cadere! No! No, non passo la vittoria! Che culo! La mia è una piramide, non è una torre! Tu cazzo me lo metto questo! Che infame! Attenzione, sto riuscendo! No, ti prego! Ti prego, no! Ok, tre, due, tre! No! No, c'è il tracione, raga! No, raga, Giuseppino vinto! Calma! 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 Tre, due! Anche io! No! E vinco io! Però c'è, allora è arrivato quarto! La tua stava crollando, infame! E leggeva tre secondi! No, quarto! No, se mi... No, ancora è arrivato quarto! L'ho superato! Eeeh, più di uno, ma è liberato! A questo è chi sembra... Chi ne perde tre aperti! E a vite, a vite, occhio! Guarda come si... Non fa tutti i zitti che bastardi! Cazzo dici i zitti! Amici bastardi che non si... Ma che torrefo! Ho già perso io! Ma che torrefo! Aspetta che metti una bella barcosa! Oh, grande! Grande, mi ha dato la base! Beccatevi sto malus! Cos'è? No! Che cazzo me ne faccio sto... Eh? Che vuol dire? No, raga, che è sta roba? Ragazzi! No, raga, sta crollando tutto! No! Cade tutto! No! Raga, come sono perso? Non crollati tre! No, raga, no! Io gli ho dato il malus che l'ha fatto vincere! Ma ti rendi conto che sono arrivato quarto per colpa di sta cacata! Eh, ok, vabbè, è lunga ancora la storia! Ragazzi, giochiamo per divertirci! Ho preso la lettera, non te ne va! Che arriva! Bello grosso, forse mi si sta bene! Forse sta bene anche a me, sai? Mi hai creato una bella barca! Grazie, bra! No! Ma no, i portaggi tu! Ghiaccioli! Cosa fai il ghiacciolo? Non lo so! Ghiaccioli! Ancora! Ancora! Ficcatevi in dercule, gli ghiaccioli, grazie! No, no! Oddio, oddio! Ma basta per vincere! Fitto! No, no, papà, no! No! Papà, 15 euro! No, l'ho messo male! Pezzo di merda! No, non cazzo! Due! No, stai ferma, struttura di merda! Su un secondo, raga, non so che cosa vi è successo! No! No! Eccola dall'ultimo, raga! Raga, sono primo! Raga, ho vinto! No! Raga, ho vinto! Ho vinto! Perché? Secondo! Secondo! No! Guarda sulla nave, che infame! Due punti, si torna il secondo! Eccolo, l'ho fatto! No! Per ridi, ti hai raggiunto sto qua! Cosa me ne frega! Cos'è? Ma se li butti di sotto, che succede? Che si alza! E si alza la tua piattaforma! Come fai a farne tanti, come impossibile? Eh, ma va a cagare, va! Ma! Che cosa? No! Guarda, una cosa ti faccio! Guarda, il costruttore di merda! Io l'ho messo sopra e mi ha fatto perdere! Perché lui ha messo, perché lui ha messo la linea! L'ho toccata la linea, ma così! Lo vedi che lui ha... Sono primo! Sacco di merda! Passa sul mio cadavere! Oh, mamma mia, che bene! Che top! Ok! Mamma mia! E taglio così con le de roccia! No, no! Torre di merda! Torre di... No, no, no! Non so cosa vi ho dato, ma ve l'ho dato! Eh, che mi hai dato? Cambia la posizione! Quello che cambia da solo! Ma stanno andando più veloce o sbaglio? Non so come far stare in piedi la mia! Eh, perché qua sono un bravo, ho creato una bella sfissura! Come fai? C'è uno che sta mettendo tutto dritto! Attenzione! L'ho visto che... Attenzione! No! Madre infame, smettila subito! Oddio, guarda il bonus! Io vado al nastro! Calma! Raga, ve l'ho dato qualcosa! Quello grosso! Non cadere! Stai d'alto! Stai d'alto! Sono l'ultimo! Sono l'ultimo! No! Ma sono troppo forte! Sono l'ho perso! Ma cosa sei troppo forte che c'è il blocco sta così? Sono troppo forte! Raga, ho superato, eh! Sono sul primo! Cosa? Non so, vai vincenzo! No, qua se cade è un casino! Che cazzo faccio io là? Guarda i miei pezzi come stanno! Ma perché? Quasi quasi io do questo, vediamo un po' che succede! Che è questa roba? Va bene, lo do io il pesante! Eh, cazzo! No, no! Oddio! Che è successo? Stai mettendo una cassa panca! Perfetto! Perché ogni volta che vedo un mouse vi fa bene? Ho perso la stavolta di darmi passione! No, frate, che hai fatto? No, no! No, ecco, ho perso! Giuseppe di merda! Cazzo! Hai lanciato joystick! Mamma mia, the champion! Look at this! No! Arrivò in cielo! No, guardate, raga, è arrivato! Sei tu un bastardo! Di un millimetro sei arrivato secondo! Dipende da quanti blocchi hai messo! Ho vinto io! Schifo stavo! E' un terzo! Ah, no, ciocca di... E ti ha recuperato, lorido! Papà, qua! Non lanciava più su joystick di merda! No, no, c'è questo! Questa mi piace, dai! Ma che è fortunato il vecchio in questa... Sono fortunato, è diverso! So giocare! È inutile fare gli sboroni! È inutile! È inutile! È inutile levato un pezzo mi avete elevato! Perché? Perché è caduto tutto lì? Ma perché? Guarda a Suri che sta zitto e va avanti! Oh, guarda la piatta! Guarda, guarda la piatta! No! Ma fare l'oblio, merda! No, blocchettino! Non fare il kamikaze! No, 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 raga! Mello del previsto sto andando! No, non mi crollare così, no! Non lo fare, sei cattivo, però! Porca puttana! Mi ha caduto tutto e mi è caduto! No! E questo che cazzo gli faccio? Andatevi in culo tutte e tre! Papà, la mia torre! No, papà! Che cazzo sta succedendo! Dai, ho vinto! No, no, no! No! Sì! 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 Alla sotto! Penso di me! Vabbè! Oglione! Aia! Papà, perché a me? Dai, finti a me che mi ci ha buttato lui qua sopra, eh! Che cazzo di democrazia è qua! Sì, che cazzo guardi te! Cari amici, il video termina qua! Ciao, un vincitore! Questa è la storia del Tricky Tower Animale Animale! Superiamo i 40.000 mi piace! Se volete vedere altri video con i mates, tutti in compagnia insieme! Mi raccomando, come sempre, vi piuttete di scriverlo già dentro! Grazie a tutti queste piccole bestiore che lui, soprattutto, è felicissimo! Non vi voglio vedere il prossimo video in camera sua! Altri dei bellissimi videolati! E non ci si becca ad un prossimo video! Stay angry! Stay animals! Woo!